Esistono luoghi che possono ridare colore alla tua vita. Cari amici, buonasera, mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con Aquilotti Social Club a l'ora 21. La capesta purtroppo è retrocessa, analizzeremo tutto il campionato con gli ospiti in studio, cercheremo di capire dove sono stati effettuati gli errori più gravi, cercheremo di capire quale sarà il futuro della capese, che intenzione avrà il presidente Santoriello, il cui invito è sempre aperto, credo che stasera comunque non sarà dei nostri, invece saranno in studio Massimo Di Matteo, Andrea Liguoli e Angelo Parrocchia, in più in collegamento audio-video i giornalisti Giuliano Pisciotta ed Danilo Sorrentino. Mi raccomando, stasera è l'ora 21, su RTC Quartarete, canale 654, a dopo!